Siamo qui contro le discariche, perché la Sicilia non è più delle discariche, quasi tutti in mano ai privati, che si arricchiscono di questo, si arricchiscono per un sistema di raccolta dei rifiuti che non esiste in nessuna parte del mondo e del nostro paese, perché le altre regioni hanno fatto passi da giganti nella raccolta differenziata e nell'abolizione delle discariche. In Italia si porta ormai circa il 30% di rifiuti in discariche, in Sicilia siamo al 70%. Noi dobbiamo finirla con le discariche, far diventare finalmente i rifiuti una risorsa e non un problema, aumentare la raccolta differenziata perché è l'unica maniera per eliminare le discariche. Poi c'è un caso limite, che è di una discarica, tra l'altro con alcune vicende giudiziarie alquanto discutibili, e anche per questo io ritengo che i proprietari dovrebbero avere il buon gusto di stare in silenzio e non paventare minacce a chi legittimamente vuole protestare per un sito che è chiaramente una bomba ecologica a tutti gli effetti. Questo sito appunto che è al confine di due paesi e che crea non pochi problemi di salute all'ambiente, ai cittadini, tutti, che appunto non ne possono più e si sono rotti i polmoni. Io sono consigliere comunale di Motta, da sempre manifesto insieme al comitato no discarica, da sempre diciamo no discarica e le vicende, come è stato detto poco fa dal presidente legambiente giudiziarie, ci danno ragione a voler dire no a una discarica che abbiamo a due passi. Oggi abbiamo deciso di fare una passeggiata, siamo qui davanti a quello che potrebbe essere un monumento, anche questo abbandonato della natura, l'olivo mulenario, ci vogliamo dirigere verso Poggio Guardia e da lì avremo praticamente non un bel panorama, ma vedremo delle belle vasche, tutte piene di spazzatura, che dalla mattina alla sera, anche quando non ce ne rendiamo conto, ci uccidono, ci uccidono quello che respiriamo, forse anche su quello che mangiamo, perché ci sono falde acquifere, perché ci sono polveri che sicuramente ci sono nell'aria. Non siamo tutelati dalle istituzioni locali, comunali, regionali, provinciali, abbiamo seri dubbi su quello che possa essere la vivibilità del nostro paese, manifestiamo oggi così, con delle lenzuole appese, con delle manifestazioni più grandi, con delle riunioni, però purtroppo sembra che tutti siano sordi o ascoltano poco questo messaggio. Noi il nostro appello è sempre lo stesso, non vogliamo una discarica qui, vogliamo che venga delocalizzata e soprattutto che vengono bonificate, sia quelle in funzione ma anche quelle che è già stata chiusa da qualche anno. Non possiamo andare avanti con problemi anche gestionari, non abbiamo più le finestre. Settimana scorsa c'è stata una manifestazione in occasione del 27 settembre da parte della scuola, i bambini non possono stare con le finestre aperte a scuola. Assurdo, non abbiamo più la nostra vivibilità sul territorio.